Un parcheggio al posto delle dune. Perché mai tenere quelle dune? Meglio farle un parcheggio o peggio ancora una discarica. Il tutto sarebbe stato a servizio di una struttura balneare e una vasta porzione di pianeta trasformata in discarica di inerti altrettanto. La scoperta d'opera della Guardia Costiera è stata fatta a San Foca, una delle marine di Melendugno. Sequestrata quindi l'area di 670 metri quadrati e il proprietario, titolare dello stabilimento balneare, è denunciato per distruzione delle bellezze naturali e innovazioni non autorizzate in zone sottoposte a vincolo paesaggistico e ambientale. Al posto dei cumuli naturali di sabbia e dei cispugli di mirto e lentisco, si vede chiaramente, dalle foto utilizzate nell'ambito delle indagini, un'area livellata in cui, con tutta probabilità, avrebbe dovuto essere realizzato un parcheggio. La litoranea, che collega San Foca alle marine di Vernone, infatti, è una zona paesaggisticamente molto suggestiva, ma la legge però non consente di spienare dune né di eliminare la vegetazione.